Bocciatura senza scampo per il bilancio della regione del 2015, in piena era frattura, senza quindi nessuna scusante come il luogo comune dei debiti ereditati dal precedente esecutivo. Ma vediamo perché, cominciando col dire che il governatore quasi ogni settimana si autocelebra, sostenendo che con lui i conti del Molise sono stati rimessi in ordine e che anzi con lui, sempre frattura per intenderci, la nostra regione ha imboccato il viale della ripresa. Tutte balle, tutte bugie e non lo dice nessun organo di informazione nemico, nessun suo avversario politico che magari, gratta gratta, neanche c'è. Lo dice il quotidiano della Confindustria, quel sole 24 ore che fa le pulci e i bilanci 2015 delle regioni italiane, scoprendo così, guarda un po', che il Molise in percentuale agli abitanti è la quarta regione più indebitata d'Italia. Ogni molisano appena nasce si ritrova sulle spalle un debito da 1000 euro. In Abruzzo, giusto per fare il paragone, con una realtà simile alla nostra, ogni abruzzese ha un debito individuale di poco più di 300 euro. Ricapitolando, ogni molisano ha indebitato il triplo rispetto ad un abruzzese e questo avviene indubitabilmente nel tempo di Paolo Frattura. Si tratta, e parliamo, del bilancio regionale 2015 che scopre come il Molise abbia debiti totali per 300 milioni di euro e rotti. E non sono quelli che aveva fatto Iorio, andato a casa nel 2013. Sono i debiti dell'attuale gestione Frattura, fonte sole 24 ore, anzi, fonte Corte dei Conti del Molise. Alla base del fenomeno ci sono due fattori. Il decreto Monti del 2012 ha aperto alla Corte dei Conti le porte dei bilanci regionali, che prima vivevano in splendida autonomia e oggi sono sottoposti al giudizio di parificazione, cioè all'esame dei magistrati contabili. Nei conti del 2015, poi, l'analisi della Corte dei Conti si è dovuta esercitare sull'applicazione al regime della riforma della contabilità, con le nuove regole che guidano la formazione dei bilanci di regione, province, città e comuni. La riforma poggia su centinaia di pagine di principi contabili ed ha un obiettivo semplice, pulire i bilanci dalle entrate che non si trasformano in incassi reali, oltre che dalle spese prive di pezze d'appoggio valide, per fotografare la situazione reale dei conti. Il punto chiave è naturalmente offerto dalla cancellazione delle entrate tenute in bilancio solo per abbellire il risultato finale.